Eccoci qua, Anthony, pluricampione, Paolo Simoni, allevamento Light Sky, Giudica Marabotto, CAC Farenza. Anthony è già campione internazionale e di San Marino, a Balcane, ottimo carattere tra l'altro. Eccolo, magari lo faccio del meglio. Marabotto ultimamente ha giudicato alla Special Premier di Genova, se non erro. Essendoci pochi cani, diciamo che i giudici possono perdersi un certo lasso di tempo per giudicare bene il cane sul tavolo. Anthony è un goloso. Forse come tutti i cavali, è un cane che non è in suggestione perché è già da un po' che gira sui ring, quindi è tranquillo. Grazie. Grazie. E vediamo che Marabotto se lo guarda proprio bene questo cane. Consideriamo anche che il cane, ecco qua adesso, ve lo faccio vedere, c'è una camminata molto buffa Anthony, molto cavalierosa. Eccolo qua. Una scavolatina, corda ben tenuta, se va più veloce l'abbassa anche di più. Vai vai vai. Vai vai vai. Davanti indietro adesso. Vedete come cade che sta bene anche indietro. Ecco come dicevo prima, quando si va a giudicare un cane che ha un CAC, magari il giudice ovviamente non sa che è già un pluricampione, rischia in caso di un giudizio errato di fare una figuraccia. Questi sono gli inconvenienti del mestiere. Comunque direi che Anthony ha girato bene, il cane è bello, allegro, gioioso. Ecco qua, vediamo adesso cos'è che non... E' anche difficile per un giudice giovane parlare con un allevatore della vecchia guardia come Simone che di Cavalier ne ha visti miliardi. Grazie. Grazie.